In cosa consiste la tecnica di chirurgia laparoscopica e toracoscopica microinvasiva? Sono tecniche chirurgiche ormai non più recenti che prevedono interventi chirurgici a torace ed addome chiuso senza eseguire incisioni ma utilizzando delle micro cannule dove si possono introdurre strumenti miniaturizzati per poter eseguire appunto le procedure chirurgiche sugli organi endoaddominali ed endotoracici. Quale futuro per la chirurgia pediatrica minimvasiva? È una branca molto affascinante, il futuro che mi auspico e che prevedo è una continua miniaturizzazione degli strumenti rendendoli più affidabili, più utilizzabili, facilmente utilizzabili. Sono già presenti e prevedo che gli sviluppi saranno tali da poterci portare ad eseguire interventi sempre più difficili e complessi con maggior facilità e con miglior risultato.